Lutto a uomini e donne, morta Maria, la vulcanica dama del trono over, aveva partecipato alla stagione 2014-2015, conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari nelle puntate a seguire la ricordò più volte, realizzandone un'imitazione perché la signora era sicuramente un personaggio indimenticabile, il suo monito a uno dei corteggiatori che la offese, vergogna, mettiti in ginocchio, sequenze, immagini che adesso girano su Twitter ricaricati come meme in suo omaggio. La notizia della morte di Maria è arrivata da Anna Tedesco, sua dama amica, che su Instagram ha condiviso la notizia, riposa in pace Maria, un altro lutto, il tuo sorriso, era la tua più grande forza. La signora Maria è stata ricoverata alcune settimane fa presso l'ospedale Cannizzaro di Catania per i sintomi da coronavirus. Da allora la sua vita è rimasta appesa a un filo, la morte sarebbe arrivata nelle scorse ore per un aneurisma cerebrale, a confermarlo il blog di Uomini e Donne.